Abbiamo smister in quel di Palermo perché Walter Novellino è il nuovo tecnico rosa nero. Parleremo di questo e ovviamente dell'ennesima telenovela dei tecnici di casa Zamparini, ma non solo perché c'è una grande polemica che è scoppiata tra un grande del passato come Sacchi e un grande del presente come Massimiliano Allegri, con un occhio per il mercato e non solo, tutto nel TMV News di oggi, tra pochissimo. Ennesimo cambio sulla panchina del Palermo. Walter Novellino è il nuovo tecnico rosa nero. Contratto di tre mesi, al Modena andrà un bonus in caso di salvezza dei siciliani. Arrigo Sacchi attacca. La Juve vince solo in patria, come il Rosenborg. Alla vigilia della gara col Sassuolo, Allegri risponde piccato. Il calcio è opinabile e voglio bene ad un settantenne. Balla il futuro di Domenico Berardi tra Juventus e Sassuolo. Domani sarà il pericolo numero uno in campo per la banda Allegri, mentre nella prossima stagione potrà vestire il bianconero per 25 milioni di euro. Buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento con le TMV News Apertura. D'obbligo col Palermo che di fatto quest'oggi ha ufficializzato il nuovo allenatore. Si tratta di Walter Novellino che arriva su una panchina bollente ed è atteso adesso da una missione non certo facile. Ne parleremo quest'oggi con Raimondo De Magistris. Ciao Raimondo e ben trovato. Ciao Tommaso, buonasera. E con Ivan Cardia, ciao Ivan. Buonasera, buonasera. Allora, subito domanda da un milione di euro. Novellino, Raimondo, è l'allenatore giusto per questo Palermo? Beh, era tra i pochi disponibili per questo Palermo, più che altro, perché Iachini non ha voluto fare passi indietro e quindi ha confermato le sue dimissioni. È stato contattato Ballardini e di fatto lui aveva già rescisso il contratto col Palermo e non è voluto tornare a Palermo. Novellino era disponibile, ha già lavorato con Zamparini, tra l'altro è uno dei pochi allenatori non esonerati da Zamparini. Ha lavorato due anni a Venezia, nell'allora Venezia di Zamparini. Forse è una delle sue migliori avventure da allenatore in quel Venezia, che era il Venezia di Recoba. Insomma, un Venezia molto, molto importante, vedremo. È un allenatore che forse nell'immediato può essere anche giusto, perché ha grinta, insomma è un allenatore motivato. Certo, non vedo novellino come l'allenatore è giusto per aprire un ciclo, un progetto a lungo termine, però magari per tre mesi può anche andare bene. Ivan, un novellino traghettatore per cercare di salvare il salvabile, quindi da qui fino alla fine del campionato. Eh sì, da questo punto di vista ho qualche dubbio, onestamente, perché il Palermo, al di là di tutte queste vicissitudini in panchina, lo vedo un po' in difficoltà sul campo. Non è una squadra abituata a lottare per salvarsi, non ha quel tipo di giocatori, non ha magari la cattiveria agonistica che hanno il Frosinone, che è un punto da loro, o il Carpi. Quindi, insomma, al di là del nome di Novellino, che può convincere o meno, perché a Modena, ad esempio, nelle ultime esperienze ha avuto alti e bassi, è proprio la squadra che mi lascia un po' perplesso dal punto di vista della lotta per la salvazione. Il calendario, perché poi il Palermo ha un calendario più difficile rispetto a quello del Frosinone, deve andare a giocare a Frosinone, sappiamo quanto al Matusa la squadra di Stellone faccia la differenza, sarà dura. Perché poi, quando ti ritrovi lì e non sei abituato a lottare per la salvezza, tutto è più difficile, se non riesci subito a invertire la rotta. Allora, salutiamo anche, in collegamento telefonico con noi, il nostro Alessio Alaimo, direttamente da Palermo. Ciao Alessio, ben trovato. Ciao, ciao, buonasera a voi. Allora Alessio, innanzitutto, se vuoi aggiungere o correggere qualcosa, anche probabilmente correggere qualcosa a quello che hanno detto Raimondo e Ivan, a tuo avviso, tu che vivi anche la quotidianità del Palermo, novellino, credi che possa fare al caso di Zamparini, al caso di questo Palermo? Beh, a proposito di Ballardini, una piccola correzione, perché Ballardini è stato contattato, aveva anche accettato, però ad una condizione, un contratto di due anni. Lo staff aveva anche preparato le valigie, era pronto ad atterrare a Palermo alle 8 del mattino seguente il contatto. Dopo mezz'ora, la telefonata di Zamparini, no, non tornate più perché due anni di contratto non vi faccio. Quindi ripensamento e quindi all'improvviso, insomma, ecco l'idea Walter Novellino, traghettatore, tre mesi di contratto, più opzione per la prossima stagione in caso di salvezza. In caso di salvezza, come avete detto bene nell'introduzione, sorriderebbe caliendo perché intascherebbe un bonus di circa 100 mila euro in caso di salvezza del Palermo. Ecco, adesso aiutaci anche a capire in questo momento l'ambiente attorno alla squadra, alla tifosoria, l'ambiente intorno al Palermo. Come ha accolto la firma, l'annuncio di Novellino, un tecnico che piace? Si preferiva qualcos'altro? Beh, difficile preferire qualcos'altro perché ormai Palermo ha visto di tutto. Insomma, li ha visti praticamente tutti gli allenatori in rossa nero. Insomma, Zamparini ha conosciuti anche altri in passato Venezia, da Prandelli a Spalletti fino a Ventura. Diciamo che ha fatto la collezione, mancava soltanto Novellino-Palermo. Una partita difficile domenica da preparare in tre giorni contro il Napoli. Insomma, difficile da capire come effettivamente la preparerà, difficile capire come affronterà il Palermo le prossime partite. Sicuramente Novellino porterà del suo, ma partendo da una certezza, che è Alexander Traikoski. Perché è un pupillo del Presidente, è stato uno degli oggetti della discordia tra Zamparini e Iachini, perché Iachini l'ha lasciato a casa l'altra volta contro l'Inter. Il Presidente si è arrabbiato, lo ha fatto notare al suo allenatore e da lì è scoppiata praticamente la crisi. Da lì le divisioni del tecnico. Alessio, ciao. Un piccolo passo indietro alla trattativa col Modena. Perché questa clausola, possiamo dire, è un po' bizzarra. Il Modena che ha delle pretese sul Novellino, poi si raggiunge l'accordo in caso di salvezza. Ecco, com'è andata? Come si è svolta la trattativa tra Zamparini e Caliendo? Beh, Caliendo lo conosciamo, è un'abile stratega del mercato. Ha strappato questa condizione a Zamparini. Un bonus in caso di salvezza e il Novellino ha dovuto rinunciare agli stipendi da gennaio a giugno con il Modena. In conseguenza, ecco la firma, 200 mila euro per Novellino per le prossime partite, che vado a memoria, sono 10, 20 mila euro a partita. Chissà se arriverà a disputarle tutte. Ecco, dal punto di vista del futuro, al dia dell'allenatore, abbiamo visto uno Zamparini che ha litigato con qualche tifoso, in realtà uno. Però, appunto, c'è una situazione calda. Come vedi, il futuro del Palermo, dal punto di vista del Presidente, rimarrà la guida della società o possiamo aspettarci novità da questo punto di vista? C'è stato anche il comunicato. C'è stato, esatto, anche il comunicato. Richiamo alla collaborazione, società, la sinergia, società, squadra. È stato proposto a Gigi Simoni il ruolo di Presidente, dopo il no di Trapattoni. Sì, ma Gigi Simoni è un'idea già che il Presidente aveva qualche anno fa, quando aveva in mente anche di costruire una squadra satellite in Spagna. Un'idea che ritorna e potrebbe affiancarlo Stefano Gianmarioli, attuale DS della Cremonese. Un'idea come tante, anche perché il prossimo anno il Palermo cerca un direttore sportivo. Gelonin finirà il suo mandato il 30 giugno, ma di fatto non è più operativo per il Palermo da qualche tempo. Probabilmente non lo è mai stato, perché non è riuscito a lasciare il segno su questo mercato, anche perché Zamparini si è fidato di altre persone, tra cui Davos Urkovic, Vladuleni, Giuseppe Rizzo e altri operatori di mercato che non la centrano con il ruolo di direttore sportivo. Perfetto, grazie mille Alessio. Grazie a voi. Grazie ad Alessio Alaimo, direttamente da Palermo. In bocca al lopo a questo punto anche a Walter Novellino, che inizierà subito, come detto, con un esame importantissimo contro il Napoli di Maurizio Sari. Adesso invece cambiamo argomento e parliamo della Juventus, che è attesa dalla sfera contro il Sassuolo. Una delle rivelazioni assolute di questo campionato è il Sassuolo dei Miracoli, il Sassuolo di Eusebio Di Francesco. Prima però, prima di parlare degli aspetti di campo, gli aspetti tattici, gli aspetti tecnici, dobbiamo affrontare la querelle che è nata nelle ultime ore, negli ultimi giorni, tra Arrigo Sacchi, il grande ex allenatore del Milan, e Massimiliano Allegri. Arrigo Sacchi ha definito e ha detto della Juventus che vince soltanto in casa, cioè vince soltanto in Italia e mai in Europa. Oggi c'è stata anche la risposta abbastanza piccata dello stesso Allegri in conferenza stampa. Raimondo, innanzitutto la tua opinione, da che parte stai? Sacchi ha esagerato, Allegri ha esagerato, ha detto gli voglio bene, è un signore di 70 anni. Sacchi è sempre stato abbastanza integralista, o meglio, è sempre stato integralista, e col passare degli anni non fa altro che accentuare, ha sempre accentuato questo suo modo di esprimersi. Ho trovato abbastanza incoerenti le sue parole e soprattutto le sue valutazioni sugli allenatori. Ad esempio ha parlato male di Allegri e benissimo di Conte, ha detto che Conte in questo momento è il miglior allenatore che c'è in Italia a livello europeo, in realtà la Juventus in Europa ha fatto il salto di qualità grazie ad Allegri, non grazie a Conte, conosciamo tutti le difficoltà della Juventus di Conte in Europa, e mi è sembrata una Juve molto più matura, molto più concreta, e anche più spettacolare in Europa quella di Allegri piuttosto che quella di Conte. Quindi non riesco troppo a capire le valutazioni di Sacchi, che per carità negli anni 90 ha rivoluzionato il calcio, però l'impressione che adesso abbia fatto un po' il suo tempo è che il suo calcio non si riesca ad adeguare a quello che è il calcio contemporaneo. Il calcio è opinabile, ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa, quindi si rispettano le decisioni di tutti, Ivan tu che sei anche più abituato a seguire estremamente da vicino le vicende di casa Juventus, qual è la tua opinione? Diciamo che il problema di Sacchi fondamentalmente è che lui ritiene il calcio non sia opinabile, quindi lui si è sempre ritenuto un po' un santone, tra virgolette, quando allenava e poi anche quando ormai fa sostanzialmente commenta, fa il commentatore ormai, e da questo punto di vista tra l'altro io un piccolo trade union tra Conte, Allegri, Sacchi e Capello esiste nel senso che il lavoro di Sacchi era estenuante ai tempi del Milan, era un lavoro in cui lui richiedeva perfezione e richiedeva dei meccanismi da imparare a memoria, un po' come faceva Conte alla Juventus, il passaggio da Conte ad Allegri è stato molto simile a quello da Sacchi a Capello, i due successori, Capello e Allegri hanno un po' normalizzato il lavoro di una squadra. Però c'è da dire che Antonio Conte non è mai stato un integralista come Arrigo Sacchi, Conte partì dal 4-2-4, poi arrivò a Torino e capì che si doveva adeguare a una certa tipologia di rosa, passò alla difesa 3, poi è tornato alla nazionale in cui ha provato sia la difesa 3 che la difesa 4, Sacchi aveva un solo modulo. Sì, però uno dei temi fondamentali del calcio di Sacchi è stato proprio la non troppa importanza del modulo, l'importanza degli uomini, degli inserimenti da effettuare e soprattutto più che nel modulo, nello schema tattico, il lavoro di Conte per il modo in cui stanca i giocatori in cui li spinge fino al limite, da quel punto di vista onestamente ricorda un po' quello di Sacchi, meno integralista dal punto di vista delle dinamiche concrete della squadra quando va in campo, però da quel punto di vista un po' lo ricorda, tra l'altro poi Sacchi ha paragonato la Juve a Rosenborg, nel 1996 ricordiamo che il Rosenborg una vittoria in Europa l'ottenne a San Siro contro il Milan, quindi c'è stato anche questo piccolo autogol, tra virgolette, il Milan di Sacchi ovviamente. Una reatriba linguistica possiamo dire che è destinata comunque ancora a avere numerosi strascichi nei prossimi giorni, del resto i tanti ex anche della Juventus ma anche del Milan si sono espressi chiaramente pro e contro Allegri. E a Rigossacchi adesso parliamo invece del campo, la sfida proprio tra Juventus e Sassuolo, una Juventus che si ritroverà davanti Domenico Berardi, attaccante come sappiamo in orbita bianconero. Allora ci colleghiamo con la redazione di tuttomercatoweb.com per fare il punto della situazione con Luca Bargellini. Grazie Tommaso, ovviamente l'attenzione per la partita fra Juventus e Sassuolo sarà indirizzata anche nei confronti di Domenico Berardi, l'attaccante nero-verde che da tempo è nell'orbita della Juventus, per stessa ammissione del DG Emiliano Carnevali esiste un'opzione a favore del club bianconero per 25 milioni di euro per acquistare il cartellino dell'attaccante numero 25, attualmente a disposizione mister Di Francesco. Berardi però è un nome in chiave mercato anche per quanto riguarda il Milan, che nel recente passato è stato spesso e volentieri vittima delle reti dell'attaccante del Sassuolo. In estate se ne riparlerà, sicuramente la Juventus valuterà fino in fondo se far valere questa opzione nel prossimo mercato estivo. sicuramente Berardi sarà uno dei giocatori da tenere sotto massima attenzione per la gara dell'anticipo di campionato di domani sera, una gara che potrebbe già scrivere una parola importante per la lotta a Scudetto della formazione bianconera. Eh sì, una gara importantissima per quello che riguarda il cammino della Juventus-Raymonda. Allora, Berardi è una partita nella partita la sua domani. Sì, sicuramente, insomma, è stato già opzionato dalla Juventus in vista della prossima stagione. Sinceramente non so quanto alla Juventus, a questa Juventus, possa servire questo Domenico Berardi. Questa forse è la stagione più difficile di Berardi da quando è in Serie A col Sassuolo. Ha dimostrato di non riuscire a superare i suoi limiti di continuità. Per carità è ancora giovane, un 94, quindi ha tutto il tempo di crescere. Però come ruolo, come caratteristiche, è un giocatore molto simile a Di Bala. E in questo momento credo che per ora siamo su due livelli completamente diversi. Non c'è paragone. E quindi vedremo se poi la Juventus deciderà davvero di investire 25 milioni di euro per Berardi. O magari arriveranno su Berardi altri club. Perché poi il Milan ci sta pensando seriamente. La scorsa estate abbiamo visto che il Milan, quando vuole investire, può investire. Anche cifre importanti. Vedremo. Non so se alla Juve possa servire questo Berardi e se la Juve davvero pagherà questi soldi. O magari Berardi andrà altrove. Ivan, potrebbe essere l'ultima partita? Secondo me sarà l'ultima partita di Berardi col Sassuolo. Perché sicuramente la squadra di Neno Verde... Sì, questa è una delle poche cose certe. Partiamo dalle quasi certezze perché poi insomma il Sassuolo non dimentichiamo che a Squinzi come patron non ha tutto questo bisogno di fondi. Quindi insomma i soldi il Sassuolo ce li ha e sta crescendo. Però dopo Zassuolo Berardi è sicuramente il primo iniziato a lasciare. Verosimilmente partirà diciamo. Quindi partiamo da questa certezza. Può essere l'ultima contro la Juventus d'avversario? Anche questo è abbastanza probabile perché la Juve comunque lo ha messo sott'occhio da parecchio tempo. Con il Sassuolo i rapporti sono ottimi. Non dimentichiamo che nella Juventus dovrebbe giocare Zaza che insomma fino a qualche tempo fa vestiva la maglia nero-verde. Quindi diciamo è verosimile che secondo me Berardi si trasferisca la Juventus nel prossimo mercato. Secondo me potrebbe proprio nel passaggio all'ombra della mole antonelliana fare quel salto di qualità che magari a Sassuolo non riesce a fare. Anche perché comunque gli stimoli sono un po' diversi. Alla Juve sei costretto a farlo. Però proprio Simone Zaza secondo me potrebbe essere un incentivo a non trasferirsi alla Juventus. Un esempio da non seguire. Un esempio da non seguire perché Zaza sta trovando pochissimo spazio. Giustamente alla Juve sta trovando poco spazio. Però insomma un giocatore del genere che rischia addirittura di saltare l'europeo perché alla Juve non gioca. Non so quanto l'esempio di Zaza possa essere positivo per Berardi. Però proprio da quel punto di vista ad esempio secondo me Zaza alla fine andrà all'europeo. Berardi è tutto da decidere ancora. Più probabilmente no. Quindi da quel punto di vista magari Zaza sorride e Berardi non del tutto. Perfetto è tutto per questo TMV News. Quindi saluto e ringrazio Ivan Cardia. Grazie Ivan. Grazie a te e buonasera a tutti. Saluto e ringrazio ovviamente anche Raimondo De Magistris. Grazie Tommaso. L'appuntamento alla prossima edizione del TMV News. Come sempre vi rimandiamo alle pagine di tuttomercatoweb.com per tutte le ultime sulle vicende di mercato e sul campionato di Serie A, di Serie B, di Lega Pro e di tutto quello che riguarda anche il panorama internazionale calcistico. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.